Con Icaria, la turbina eolica a portata di tutti, il 29enne Alessio Farina vince l'undicesima edizione di Start Impresa, il corso di formazione per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti-Pescara. Originario di vasto, Alessio Farina è arrivato tra i cinque finalisti, sbaragliando la concorrenza dei 25 selezionati per il corso su oltre 40 candidati per l'undicesima edizione di Start Impresa. La sua turbina eolica ad asse verticale, in fase di brevettazione europea, adatta all'impiego domestico e delle piccole realtà industriali, è in grado di aumentare la capacità di conversione dell'energia eolica e di incrementare le ore annue di impiego rispetto alle soluzioni attualmente presenti sul mercato internazionale. Tra i cinque finalisti, a Daniela Di Piero è stato assegnato il premio speciale di 1000 euro per il progetto di impresa Turismo Sociale, intitolato a Sonia Pantoli, recentemente scomparsa. Paolo Campana, vicepresidente di Confindustria Chieti-Pescara, qual è lo spirito di questo evento? Start Impresa è un corso gratuito fatto da Confindustria, rivolto a chiunque abbia un'idea e non abbia magari un'esperienza imprenditoriale. Quindi noi prendiamo per mano queste persone senza distinzione di età, di sesso, di nulla, le portiamo passo passo a costruire un business plan che poi è l'immagine dell'attività che un'impresa fa partendo da un'idea, da un prodotto e arrivando a costituire un'impresa veramente definita. Un sistema abbastanza complesso e integrato in cui c'è un'interazione continua tra docenti e discenti. Tutti avranno la possibilità di interloquire con dei business angel o venture capitalist che conosceranno i loro progetti, li valuteranno e eventualmente potranno anche sceglierli come soggetti da investire. Si parla di imprenditoria in un periodo in cui l'emergenza sanitaria ha cambiato, stravolto totalmente il quadro economico e sociale in cui eravamo abituati. Immaginare di avviare oggi un'impresa in un momento non proprio facile significa mettere non solo un investimento di idee ma anche una buona dose di coraggio. Allora un imprenditore che cos'è? È un soggetto economico che innova, che corre dei rischi, che decide. Quindi innovare, decidere, rischiare sono tre verbi che competono all'imprenditore. È chiaro che non tutte queste attività hanno sempre lo stesso peso, ci sono momenti in cui bisogna rischiare un po' di più, momenti in cui bisogna decidere un po' di meno, momenti in cui bisogna innovare molto. Non è mai semplice fare l'imprenditore. È evidente che la pandemia ha un po' complicato le cose, però tutti sappiamo che per esempio nel 2021 l'industria manifatturiera italiana ha avuto uno sviluppo eccezionale. Quindi vuol dire che chi sa fare l'imprenditore riesce comunque sempre ad avere un'azienda economicamente valida e competitiva.